Difendete le bombe Ci vuole un po' di protezione seria Attivazione Jammer La squadra d'attacco ha trovato una bomba, è un'assalto Attivazione Jammer Piazzo il Jammer 10 secondi Muro rinforzato Ancora 5 secondi Il nemico ha trovato una bomba, prepararsi all'ingaggio Jammer pronto Porta bloccata Ho un bersaglio Ho piazzato il dispositivo Dispositivo in campo Oh 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti